allineamento completato non ha preso la macchina piccolo lord accelerazione di galoppo power alla chiusura delle ali di galoppo anche piccolo l'hai prisca degleris che prova a rimanere davanti lo scato di persenzio vita che è numero 4 power squalificato è stato anche un agganciamento ha sbagliato anche patty jack mantiene sbaglia anche presi dentre al 10 petty jack squalificato azione in 15 2 in vantaggio prisca degleris persenzio vita di fuori due che hanno dato vita a 300 metri piuttosto intensi poi in corda ps il avio 15 e mezzo alla frazione presieduta probabilmente da paltrove k persenzio insiste all'attacco di prisca degleris corsa con parziali probabilmente invertiti cerca di recuperare dal fondo anche petit four spin 15 6 per la curva velocità decisamente notevole per la categoria è arrivato di fuori a fari spenti petit four spin che ha preso la scia di persenzio vita anticipando pandemonium si va agli ultimi 800 ancora una frazione in 15 4 hanno aperto i rubinetti sia prisca che persenzio li segue paltrove k poi chiusi in corda ps il avio mentre di fuori va anche pandemonium 15 9 la frazione gruppo che si è parecchio ricompattato pandemonium viene in mezzo alla pista cala persenzio vita è sempre in vantaggio e prova la fuga prisca degleris ha spostato in fuori paltrove k intanto pandemonium è arrivato a contatto dei primi scavalcando anche anzi paltrove k in corda di fuori c'è petit four spin 15 e mezzo alla frazione allunga prisca degleris pandemonium ha dato la punta adesso viene sul passo all'arrivo di micheleotto cerca di riguadagnare qualcosa 15 e 4 la frazione ancora in vantaggio stefano mason ma comincia ad accusare la fatica si propone bene di fuori anche pulisson ma è tardi per la vittoria nel finale prisca degleris che forse regge pandemonium ma essa è la frusta però di ero giovanni micheleotto quindi sarà un arrivo da rivedere attentamente al rallentatore 1.17 secco il tempo del vincitore chilometro andiamo a vedere se sarà prisca con stefano mason e il training di riccardo da rosa o pandemonium con pigi micheleotto e tra gli indini e il training di nicola gastaldi